Bene, buongiorno a tutti, anch'io mi unisco ai ringraziamenti che sono stati fatti dagli altri relatori per l'organizzazione e per avermi coinvolta in questo bel convegno. E un ringraziamento particolare lo devo a Chiara Mascarello che è stata veramente non solerte di più a qualsiasi mia richiesta rispondeva, quindi le sono particolarmente integrata. Bene, da qualche anno sto lavorando a due temi che sono apparentemente disgiunti ma che in realtà sono correlati e quantomeno lo sono secondo quella che è la mia analisi, ovvero da un lato la riscoperta delle antiche tecniche di meditazione nella Cina repubblicana, quindi nella Cina pre-maoista e in questo include anche in parte una rivalutazione, un avvicinamento al modello teravada. E d'altro lato invece gli sviluppi più moderni, come dimostra tra l'altro questa immagine, la diffusione nella Repubblica Popolare Cinese a partire degli anni 2000 di forme moderne di Vipassana. In questo caso specifico, che è quello su cui mi soffermerò oggi, la pratica che vedete essere eseguita da questi monaci, questi Bikshu, Bikshuni e laici cinesi è Mahasati. In generale va detto, così come premessa, che questo recente boom tra i cinesi di pratica di tradizione teravada è sicuramente dovuto agli sforzi e all'impegno di maestri del sud e del sud-est asiatico, in particolare in quest'ultima fase del sud-est asiatico e dei loro attivi laici cinesi, tra l'altro questi movimenti fanno un grandissimo uso, per ricollegarmi a quanto ho detto poco fa da Donatella e Rossi, fanno un grandissimo uso di social media, di internet eccetera, quindi riescono a raggiungere molto facilmente grandi numeri di persone. Quindi questo è assodato, però va anche detto che nonostante la modernità delle pratiche coinvolte, questi insegnamenti sono ricevuti e percepiti da chi li pratica come antiche forme di meditazione, quindi come forme di meditazione vicine alla meditazione originale del buddismo. Ed è proprio questo che mi permette di creare una connessione tra i due fenomeni di cui vi parlavo poco fa. Insomma, in altre parole, io ritengo che le origini della popolarità della meditazione teravada nella Cina contemporanea, possono essere fatte risalire in qualche modo alla prima metà del ventesimo secolo, quando arrivano in Cina idee moderne, nuove, sulla religione. E in particolare queste idee portano con sé l'idea di un ritorno agli insegnamenti originali del buddismo. Va fatta una precisazione qui, che cosa si intende in questo contesto per originali? Beh, ovviamente è la classica idea tipicamente modernista del recupero di un buddismo originario, primigenio, primitivo, eccetera. Ma accanto a questo, per quanto riguarda la Cina, abbiamo anche semplicemente il recupero di insegnamenti originali indiani, per cui ad esempio lo Yoga Charabhumi ha un momento di grandissimo revival, quindi originali indiani che in rapporto alla letteratura, agli insegnamenti e alle scritture canoniche, invece tipicamente cinesi. Quindi un recupero di ciò che è indiano, non solo dell'idea di un buddismo primitivo. Tutto questo movimento stimola, come vedremo, stimola appunto la riscoperta delle antiche tecniche di meditazione. Allora, una precisazione mi sembra doverosa, non sto presentando nulla di nuovo né originale oggi, in realtà si tratta di una ricerca che è in corso di pubblicazione, in questo volume curato da Yoshiko Ashiwa, David Wong e Jijio, sulle metamorfosi del buddismo nella Cina della nuova era. E devo anche dire, sempre per correttezza, che parte di quanto sto per presentarvi è già stato presentato altrove al Center of Buddhist Studies di Stanford, al Center d'Etudes Interdisciplinaires sul buddismo di Parigi, e poi molto molto recentemente alla University of the West. È la prima volta che ne parlo in italiano. Allora, la mia presentazione sarà articolata in due parti, proprio perché rimandano queste due realtà che sembrano non dialogare, ma che secondo me sono strettamente connesse. Quindi innanzitutto tratterò la riscoperta delle antiche pratiche di meditazione all'interno del canone buddista cinese durante l'epoca pre-mauista, quindi nella prima metà del XX secolo, facendo cenno anche a primi cenni di un avvicinamento al modello Theravada. E poi, nella seconda parte, invece, parlerò del caso studio del Shefoss, un monastero femminile del Sichuan, che è la sede principale cinese della pratica vipassana Mahasati, e che porterò appunto come esempio di questo fenomeno nuovo della diffusione della pratica vipassana nella Cina contemporanea. Ok, due precisazioni prima di cominciare. Beh, innanzitutto va detto che molto spesso il termine buddismo moderno e modernismo buddista sono considerati questi due termini come sinonimi. Io preferisco distinguerli perché intendo per buddismo moderno è una forma di buddismo che comprende una combinazione di approcci tipicamente modernisti e invece insegnamenti e pratiche più consolidate. Ecco, con modernismo buddista, anzi sarebbe da dire modernismi, visto la vastità degli aspetti e delle forme coinvolte, comunque qui vi ho messo la definizione che mi interessa per questa specifica presentazione, quindi con modernismi buddisti. Mi riferisco a forme di buddismo che si sono sviluppate in tempi moderni come risposta e reazione alla diffusione di idee tratte dalla modernità occidentale e le cui caratteristiche più comuni includono, ce ne sono tantissime altre, non le menziono, menziono quelle che interessano a me oggi, ovvero l'adozione di un approccio testuale, la ricerca di un buddismo puro e originale e appunto l'enfasi sulla meditazione. I due fenomeni di cui sto per parlarvi presentano il primo, quindi la riscoperta delle antiche pratiche durante l'epoca repubblicana, presenta tutti e tre questi aspetti, il secondo ne presenta due, ovvero gli ultimi due menzionati, la ricerca di un buddismo puro e l'enfasi sulla meditazione. Ecco, la seconda precisazione, che stavo per dimenticare perché non ce l'ho sulla slide, ha a che fare con le forme di meditazione coinvolte. Va detto che c'è una chiara distinzione, per quanto ci sia una continuità innegabile, però c'è una chiara distinzione tra quelle che sono le forme della meditazione antica, le early meditation practices, che si trovano ad esempio descritte negli Agama, negli Nikaya, Pali, da un lato, le forme di meditazione Theravada, commentariale, Abhidharma e post-canonica, dall'altro, e infine il moderno movimento di Vipassana. sono distinte, ma non sono percepite come distinte dagli attori di cui sto per parlarmi, quindi dai praticanti di cui vi sto per parlare. Per questo motivo io continuerò a mescolarle, ma ovviamente noi abbiamo ben presente che sono forme, in qualche modo, appunto a sé stanti. Bene. Allora, le antiche pratiche meditative buddiste durante la Repubblica di Cina. Dunque, è proprio come parte della tendenza generale a rivalutare gli insegnamenti originali del Buddha, nella Cina moderna furono riscoperte all'interno del canone buddista cinese forme di meditazione antiche che erano cadute in oblio in Cina per molti secoli e che si ritenne doveroso ripristinare. Il fatto che queste tecniche meditative fossero riscoperte nei testi è un chiaro segno dell'approccio testuale che veniva utilizzato. Molti sostenitori di queste pratiche ritenevano che il buddismo Chan, promuovendo la propria visione della pratica meditativa, avesse in qualche modo oscurato queste antiche pratiche e che quindi fosse necessario ripristinarle, perché appunto più vicine a una forma originale di meditazione. Dunque, in generale, va detto che l'arrivo appunto di idee moderne sul buddismo favorì in Cina la rivalutazione dei testi della sezione cosiddetta kinaiana, e userò il termine kinaiana quando è utilizzato all'interno delle mie fonti, e teravada quando è utilizzato teravada all'interno delle mie fonti. Quindi nella sezione kinaiana shavakayana del canone buddista cinese, qui ad esempio negli Agama, e assieme a questa rivalutazione dei testi appunto del buddismo antico, vengono rivalutate anche le antiche tecniche di meditazione attestate in questi testi. Va però detto fin da subito che, a parte rarissimi casi, su cui io oggi non mi soffermerò, le antiche tecniche di meditazione erano reintegrate all'interno del mahaiana cinese, con l'obiettivo di restaurare la ricca tradizione mahaiana della Cina medievale. Questa era un po' la narrativa sottostante. Non era certo per sostenere l'inayana o il teravada tukure, questo nonostante già in quest'epoca comunque si cominciasse a vedere, o ci fosse una parte del sangha cinese, che cominciava a vedere il teravada come la forma di buddismo vivente più vicina a un presunto buddismo originario. Ecco, in effetti, queste antiche pratiche meditative, queste pratiche obliate e che si cercava di riscoprire, avevano il vantaggio in qualche modo di essere incluse non solo nei testi della sezione appunto cinayana, ma anche in importanti sutra o comunque letteratura del mahaiana. Non c'è neanche un sutra qui, per cui l'importante letteratura mahaiana, ad esempio il Yoga Charabhumi, il taj d'ulun, il trattato sulla Maha Prajnaparamita Sutra, e poi i manuali di meditazione scritti in Cina e saggi sulle tecniche di meditazione composti da maestri pre-Chan. Quindi, come vedete, le fonti a cui ispirarsi per riscoprire queste pratiche sono notevoli. Tra l'altro, voglio semplicemente solo menzionare uno dei tanti casi della letteratura scritta direttamente in cinese su queste pratiche, che è il testo DJI Esposizione sulla perfezione del dhyana, il She-Chan Boluomi Tse-Di-Famen, che è un compendio sistematico e coerente di queste pratiche che è stato paragonato al Visu di Magga e che infatti oggi è molto spesso studiato in correlazione col Visu di Magga negli istituti di studio buddhisti della Cina e che Tai Xu, uno dei grandi maestri del buddismo del prima metà del XX secolo, definisce appunto come l'opera più completa sulla meditazione circolata in Cina dalla dinastia Han fino ai Tang. Quindi, come vedete, certo sono pratiche antiche, certo sono testimoniate nei testi più antichi del canone, ma in realtà poi fanno parte anche della letteratura del Mahayana e questo non creava dei problemi all'identità mahayana per l'appunto dei loro promotori. E questi promotori cosa facevano? Molto semplicemente abbiamo delle narrazioni da parte di alcuni di loro, ad esempio un caso emblematico è quello di Miao Jin, di cui ha trattato Raoul Birnbaum. Cosa facevano? Li cercavano nei testi, li riprendevano, li mettevano in pratica, li provavano in qualche modo e poi se funzionavano continuavano a farle le pratiche come nel caso ad esempio di Miao Jin per quanto riguarda il Pujinguan, la visualizzazione del cadavere, insomma la forma di meditazione sull'impuro, oppure venivano abbandonate. Miao Jin dice, ho trovato delle pratiche dietetiche che assolutamente non si possono praticare e quindi le metteva da parte. Venivano proprio provate e si cercava di mettere a prova la validità e l'efficacia. Ecco, non mi voglio soffermare troppo su quali sono queste pratiche, però alcuni casi vanno in qualche modo visti. Vi menziono appunto innanzitutto le note Satipattanas, Nianchu, i quattro siti di consapevolezza e di rimembranza che dir si voglia, perché sono ancora oggi particolarmente attuali, perché sono estremamente efficaci e estremamente importanti durante la prima metà del XX secolo. Sono appunto queste quattro forme di consapevolezza del corpo, della sensazione della mente e dei dharma. Questa pratica ha appunto, come dicevo prima, il vantaggio di essere inclusa in scrittura hinayana, per l'appunto, ma poi anche in testi mahayana, in particolare lo Yogaccharabu Mishastra, oppure testi della Tientai, di Jeyi, ma anche di Hues. Mi interessa però il testo della sezione hinayana, Nianchu Jin, uno delle forme che viene equiparato, e in realtà appunto più o meno corrisponde, al Satipattana Suttad Pali, e che viene ripubblicato, viene diffuso come testo autonomo, e che è ancora al giorno d'oggi impiegato in ambienti Theravada. I ambienti Theravada contemporanei di Vipassana in Cina, quando praticano le Satipattana, alcuni fanno riferimento a nuove traduzioni dal Pali, ma in quel caso si tratta del Mahapati Satipattana Sutta, ma in altri casi si continua a utilizzare il Nian Chu Jin, quindi la traduzione canonica cinese. Ecco, un'altra forma di meditazione particolarmente sostenuta durante la prima metà del XX secolo, su cui ho scritto recentemente un articolo, è la Shuba Bhavana, appunto Pujinguan in cinese, la visualizzazione dell'impuro, che è sostenuta da moltissimi maestri, anche laici, anche un certo Lu Chen, insomma, per intenderci, la sostiene, di cui ho già parlato a un convegno ospitato dalla professoressa Rofino a Napoli, per cui non mi soffermo. Ecco, tra i vari, dico solo che tra i vari sostenitori di questa pratica durante l'epoca repubblicana, questa pratica ancora estremamente attuale, anche in epoca moderna, ecco, in contemporanea, dicevo, tra i sostenitori spicca il caso di Tan Suen, perché dando prova di una erudizione incredibile in un suo scritto in cui la sostiene e ne sostiene la validità, rintraccia tutti i riferimenti a questa tecnica all'interno del canone buddista, passando dagli Agama ai testi appunto del Mahayana, fino a trattati tardo-imperiali e moderni. E appunto, per chiudere questa carrellata, Tai Shu, ad esempio, si fa promotore di una riscoperta delle cinque porte della meditazione Uman-Chan, che menziona proprio così. Allora, tutte queste tecniche erano delineate, come si diceva prima, in testi canonici cinesi, in particolare appunto nello Yoga Charabumi e negli Agama, ed erano presentate come forme di meditazione buddista originale. Allo stesso tempo, però, come vi dicevo poco fa, anche la meditazione terravada comincia a essere intesa come la forma più vicina alla meditazione buddista originale. Quindi, queste due concezioni coesistono e in molti testi si vede come vengono sovrapposte buddismo originario e buddismo terravada del sud-est asiatico vengono in qualche modo considerati coincidenti in alcuni casi oppure si dice che la forma del sud-est asiatico è la più vicina al buddismo originale, al buddismo antico. Chiaramente, quando queste tecniche erano già presenti nel canone cinese non vengono ritradotte dal pale, non si sente l'esigenza di farlo quando pratiche simili coincidenti o pressoché tali erano già disponibili in cinese. Perché farlo? Ci sono però delle eccezioni già durante la Repubblica e di queste voglio menzionarne due, quindi eccezioni di traduzioni dal pale, di queste voglio menzionarne due perché sono due particolarmente importanti ancora oggi e sono allora innanzitutto nel 1927 quindi siamo ancora prima degli anni 30 Tang Yon Tong che i sinologi ma anche i buddologi in genere credo presenti conoscono molto bene uno dei più importanti studiosi del buddismo della prima fase della prima metà del XX secolo nonché uno degli studiosi cinesi che si sono formati all'estero studia pali e sanscrito ad Harvard ecco Tang Yon Tong traduce la versione meridionale della Napana Sati Sutta un testo fondamentale della tradizione Theravada incentrato sulla consapevolezza del respiro ora Tang Yon Tong lo mette in relazione con il testo cinese esistente all'interno del canone tradotto da An Shegao Lan Ban Shui Jin testo tra l'altro permettetemi una piccola parentesi su cui nel 2008 Stefano Zacchetti ha scritto un importante studio e volevo così cogliere l'occasione per ricordare questo nostro collega così precocemente scomparso ieri si parlava con alcuni dei relatori abbiamo pensato che probabilmente sarebbe stato qui con noi oggi chiudo la parentesi ma mi sembrava doveroso ecco dicevo tornando a Tang Yon Tong riprende questo testo e altri letteratura cinese relativa a questa pratica nel canone e mette in luce le somiglianze ma mette anche ci tiene a sottolineare quanto sia importante avere consapevolezza dei contenuti del testo pali che lui ritiene più completo ecco un paio di decenni dopo abbiamo la traduzione del Visuddhimagga il Visuddhimagga è appunto questo compendio di dottrine di meditazione così importante nella tradizione Theravada del quinto secolo di Buddha Gosha e in Cina non era mai stato tradotto certo c'era un testo simile il Vimutthimagga che in effetti è uno delle poche testi tradotti dal pali presenti nel canone cinese che è uno dei testi che è stato riscoperto durante la prima metà del ventesimo secolo e che appunto ne parla Lucien di nuovo il grande studioso e laico del buddismo Yogachara e in effetti nella traduzione del Visuddhimagga Ye Jun il traduttore lo menziona però in realtà poi il Vimuttimagga l'altra forma quello già tradotto viene del tutto oscurato dalla traduzione nuova del Visuddhimagga che diventa un testo fondamentale ancora oggi lo vedete nella slide è impiegato non solo nei centri di meditazione Theravada nella Repubblica Popolare Cinese ma è impiegato anche all'interno degli istituti di studio dei monasteri mainstream del buddismo cinese come introduzione generale alla meditazione ed è qui che viene paragonato vi dicevo prima il testo di Tiantai Jai allora al di là di questa traduzione che è chiaramente importante perché senza alcun dubbio il testo tradotto dal pali più influente nella Cina contemporanea a parte questo volevo dire due parole sul suo traduttore perché è un po' emblematico di tutto il fenomeno di cui vi sto parlando Ye Jun come Bikshu Liao Tang partecipa nel 46 a uno dei viaggi studio nello Sri Lanka quindi nel sud dell'India organizzati dai Taishu per Bikshu cinesi che vi leggo la traduzione della lettera di incarico che gli viene data da Taishu stesso erano tasked with retrieving pure original Buddhism and returning as model monks quindi è chiaro vedete anche in questo obiettivo il programma in sé di cui si è occupato Ritzinger Justin Ritzinger il programma in sé mirava a mandare Bikshu cinesi a Sri Lanka perché imparassero come cosa voleva dire essere Bikshu in senso originale poi tornassero in Cina per diffondere il modello quindi è chiaro la sovrapposizione del Teravada col buddismo antico significativamente tutti questi monaci poi lasciano tornano al secolo e Yejun per l'appunto una volta lasciati i voti si dedica alla traduzione di testi dal Pali bene in questo modo posso chiedere quanto ho parlato scusatemi perché volevo capire quanto perfetto benissimo grazie allora questo appunto mi permette di arrivare alla seconda parte della mia della mia presentazione perché appunto la traduzione di Yejun del Visuddimaka è presente praticamente in tutti gli ambienti di cui in cui si pratica il Teravada oggi ecco vi presenterò il fenomeno della diffusione del Teravada della diffusione della pratica vipassana scusate attraverso il caso del Shifo Tse un monastero femminile collocato a Guanghang in Sichuan insomma per i sinologi presenti molto vicino al sito di Sanxingdui dove che è considerato dal 2016 quindi un fenomeno recente è il centro principale della Cina del movimento Mahasati che è tradotto in cinese Zhenyan Dong Zhong Chan dove nella traduzione cinese Dong Dong si mette in Dong Zhong scusate si mette in evidenza il fatto che si tratta di una forma di vipassana in movimento la tradizione vipassana la meditazione vipassana è qui praticata in un contesto buddista completamente prettamente e marcatamente direi cinese questo mio studio si basa su due lavori sul campo nel settembre del 2018 e nel settembre del 2019 quando ho potuto seguire un ritiro non ufficiale perché era stato bandito di un mese di pratica Mahasati e devo dire il passo successivo sarebbe dovuto essere quello di rintracciare le reti transnazionali e quindi di seguire poi queste reti fino alla Thailandia oltre che a Taiwan in realtà la pandemia mi ha impedito di farlo speriamo di poter proseguire presto quindi i dati che vi do al me sono aggiornati al 2019 il monastero è l'abbadesa del monastero è Suj che vedete in questa immagine accanto al suo maestro Tai Luan Portong e ecco Mahasati una breve presentazione una forma moderna di Vipassana dinamica per l'appunto che è stata concepita ideata da Luan Portin in Thailandia negli anni 50 e 60 e poi è stata diffusa nel mondo sinico primo a Taiwan e poi a Hong Kong e infine nella Cina continentale da Luan Portong qualcosa però sul contesto ovviamente in che contesto si inserisce questa pratica particolare si inserisce nel contesto della diffusione del Vipassana nella Cina contemporanea che è una vera propria ondata di interesse per varie forme di meditazione teravada in tutto il mondo sinico negli ultimi decenni hanno cominciato questo fenomeno che è stato studiato a lungo per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese da Elsa Lau con cui ho avuto il piacere di collaborare con cui ancora collaboro in realtà in un progetto e appunto riguarda questo per quanto riguarda la Repubblica Popolare riguarda prevalentemente queste quattro tradizioni e appunto fa capo a diversi maestri del sud e sud-est asiatico ed è sostenuto e coordinato in Cina dai loro devoti indigeni ora a grandi linee va detto che è possibile distinguere tra due ambienti da un lato abbiamo comunità teravada guidate da maestri del sud-est asiatico per l'appunto e dall'altra abbiamo comunità buddiste tradizionali che adottano totalmente o in parte alcune tecniche teravada ad esempio sempre in Sechuan c'è un altro monastero dove in pratica vipassana moderna teravada viene praticata all'interno di un curriculum che ha a che fare con l'amrim timetano quindi a volte ci sono appunto delle forme di bridazione diverse ecco per quanto riguarda i centri invece strettamente teravada anche qui dobbiamo distinguere due situazioni la situazione più meno rappresentata è quella di centri che sono interamente squisitamente teravada perché è la meno rappresentata perché invece in altri casi e per l'appunto la seconda categoria è quella in cui abbiamo questi ambienti teravada all'interno di ambienti cinesi quindi ospitati all'interno perché la prima è la meno frequente perché per la legislazione cinese non è possibile per un maestro straniero creare un proprio centro di studio quindi la scelta che si trovano ad affrontare questi maestri stranieri che vogliono in qualche modo arrivare in Cina è duplice o fondano dei centri di pratica vipassana a confezionali come i centri yoga e ce ne sono tantissimi in Cina oppure nel momento in cui vogliano creare invece un centro di studi vipassana chiaramente sentitamente appunto buddista a quel punto si devono in qualche modo agganciare a dei monasteri cinesi che offrono loro le proprie le proprie i propri insomma istituzioni e come capirete questa forma stimola chiaramente forme di ibridismo per forza di cose perché sono l'uno accanto all'altra oltre a questo abbiamo i monasteri cinesi che fanno pratica teravada a prescindere bene quindi questo è un po' il quadro generale ecco quindi in generale va detto che a parte pochissimi casi in cui c'è la pratica teravada è praticata in modo esclusivo nella maggior parte dei casi abbiamo dei tentativi di creare appunto delle forme di compromesso tra il teravada e il mahayana cinese l'altra considerazione che va fatta è che nonostante appunto la modernità delle forme di meditazione teravada coinvolte queste pratiche conservano il fascino di essere antiche pratiche buddhiste e così vengono percepite e praticate ricevute dai praticanti ecco il caso del cefus è emblematico delle forme appunto di ibridazione di cui vi parlavo le bhikshuni i laici e poi i bhikshu quando si uniscono ai ritiri di questa pratica praticano i makhassati in modo esclusivo non hanno altre pratiche meditative ma lo fanno in un contesto dichiaratamente palesemente cinese d'altro lato la stessa badessa shu ji e altri rappresentanti della tradizione makhassati vanno spesso in altri monasteri cinesi chan della terra pura eccetera a insegnare makhassati che lì viene recepita come una possibile forma alternativa e viene integrata all'interno appunto del loro curriculum possibile di pratiche quindi questo è quello vecchio e non c'è il video va bene no c'è il video grazie sono stati dei bravissimi allora qui il video semplicemente per mostrarvi quali sono le forme del makhassati mentre vi dico due parole due proprio per farvi capire di cosa stiamo parlando una forma moderna di vipassana dinamica che coinvolge il movimento degli arti e del tronco e a varianti sia assise sia in movimento la pratica makhassati mira secondo appunto quanto viene viene dichiarato nei testi e in internet mira a portare consapevolezza tutti i movimenti del corpo e della mente con lo scopo di raggiungere la perfetta consapevolezza di sé zejue o sati una interpretazione modernista moderno modernista che dir si voglia del termine invece di fornire istruzioni per contrastare le attività mentali discursive questa pratica coinvolge solo movimenti del corpo alterna appunto vi dicevo la meditazione seduta a quella in movimento che vedete in queste immagini e il praticante inoltre è tenuto a rimanere consapevole dei propri movimenti non solo durante la pratica meditativa ma anche durante la vita quotidiana e persino durante il il sonno ecco allora qui abbiate avete un po' la storia in breve della diffusione ma chassati nel mondo sinico va detto che appunto Luan Porton nel 1998 scusate non è nel 1998 ma nel 1999 credo fonda la Mahasati Meditation Society a Taipei questo permette ai testi Mahasati di essere tradotti in cinese e gli stessi testi epurati da contenuti sensibili da un punto di vista politico riferimenti al Dalai Lama ad esempio quindi è una forma moderna per cui in un testo Mahasati comunque ci sono dei riferimenti sono stati epurati ma quegli stessi testi in lingua in caratteri semplificati circolano in Cina e negli anni 90 e nel 2000 Shij li legge decide si decide appunto di andare a studiare il metodo Mahasati va in Thailandia è una dei tantissimi cinesi Bikshu Bikshuni e laici che vanno in Thailandia a studiare vi passano e in un'occasione invita Luan Porton a raggiungerla in Cina questo avviene nel 2007 quando c'è il primo ritiro appunto in Sichuan e fino all'ottobre del 2019 erano stati organizzati più di 100 ritiri nella tradizione di Luan Porton Mahasati perché lo specifico perché in realtà poi ci sono altre tradizioni Mahasati che fanno riferimento ad altri maestri anche se quella di Luan Porton è la più importante e che ha coinvolto circa 7.820 praticanti ecco questa appunto la storia qui vedete appunto molti cinesi seguono si recono in Thailandia poi per questa pratica però molti la ricevono in Cina almeno questo è stato possibile fino a una certa data quando Luan Porton poteva tranquillamente venire con visto turistico a impartire gli insegnamenti qui vedete alcuni momenti di questi insegnamenti cinque minuti ok allora cinque minuti va bene sono sono veloce dunque la comunità del 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 Cefos è costituita da cinque solo cinque Bikshuni residenti e una comunità variabile di devoti laici semi residenti poi Bikshu Bikshu laici e altri laici si uniscono a questa piccola comunità per i ritiri ora il profilo del praticante tipo è quello del laico va bene alcuni nel sito si dice dichiaratamente che il metodo Mahasati è efficace contro la depressione o problemi psicologici in effetti molti dei laici che si avvicinano a Mahasati lo fanno per motivi di questo tipo ma la maggior parte il profilo tipo è quello del cinese urbano con un'educazione elevata e benestante va bene un po' lo stesso profilo che ho trovato tra i praticanti cinesi del buddismo tibetano la vita quotidiana la vedete qui così molto sintetizzata quello che a me preme dire è che si c'è un'enfasi sulla meditazione ma la liturgia e l'organizzazione delle attività è quella tipica del buddismo cinese e poi appunto ci sono i ritiri che vengono organizzati quando sono organizzati all'interno del chef non possono ospitare più di 60 persone in altri casi si è organizzato dei ritiri dove si sono raccolte anche fino a 300 persone e sono appunto di vario genere e comprendono sezioni di meditazione aggiuntive e discorsi sul dharma e la regola del silenzio appunto uno di questi ho potuto partecipare come osservatrice qui abbiamo appunto ecco dunque come in tutte le comunità mahasati anche qui la priorità assoluta è quella della pratica meditativa le istruzioni sono fornite oralmente via wechat l'unica eccezione sono i testi gli insegnamenti di Luar Portir e Luan Portong lo studio invece delle scritture buddiste e dei testi teorici è generalmente di secondaria importanza e se non potremmo addirittura dire che è scoraggiato se leggiamo quanto viene scritto nel sito ufficiale ovvero che we do not have to study the scriptures because they are only words studying the scriptures is not the way to enlightenment this practice is the way to enlightenment quindi tra l'altro ricorda da vicino una certa retorica del buddismo ciano originario vi faccio notare bene ciò nonostante vi trovano parte all'interno della pratica del chef trovano parte le antiche pratiche di meditazione che abbiamo visto prima una posizione sicuramente preeminente ce l'hanno gli satipatthana il sanyan chu o giù perché infatti si ritrovano i caratteri delle quattro parti si ritrovano appunto iscritti sul percorso della meditazione in movimento e questo perché come dice Luan Portong i quattro le quattro i quattro siti di consapevolezza are all complete in Mahasati e quindi Xu Ji non solo appunto li favorisce ma tiene degli insegnamenti sulle stesse e per farlo utilizza il Nian Chu Jin canonico va bene quindi il testo canonico cinese la badessa tiene anche insegnamenti sul Visu di Magga qui come vedete via WeChat ecco la meditazione in questo monastero è strettamente vipassanas quindi strettamente Mahayana ma è praticata all'interno dicevamo di un contesto tipicamente cinese la solmodia delle scritture in cinese si recita il capitolo dei voti di Samantha Padra dalla Vatamsaka Sutra eccetera il rituale dei testi e dei pasti è cinese ma non solo quindi c'è un chiaro ibrido sino-teravada il libro sino-teravada si vede anche nell'obiettivo finale ed è questo che colpisce particolarmente volevo appunto citare direttamente la badessa da questo punto di vista che sostiene che lo stato di Arath non è in contraddizione con lo stato di Buddha e che il bodhicitta nasce spontaneamente dalla pratica Mahasati quindi insomma un ibrido sino-teravada e tiravada chiarissimo e infine l'identità va sottolineata i dei Mahayana di queste bhikshuni si concepiscono dicevo come bhikshuni del Mahayana ricevono l'ordinazione del lignaggio d'Alma Guptaka sono bhikshuni bodhisattva perché ricevono i precetti del Brahmajara Sutra studiano i precetti buddhisti dell'Oyagacharabhumi quindi in realtà hanno una formazione prettamente cinese ma appunto che praticano una forma del buddismo teravada e questo è possibile perché appunto come ci dice Xu Ji il buddismo è una tradizione unica che permette vari diversi modi di coltivazione e ora un minuto cerco di chiudere volevo farvi notare alcune appunto somiglianze e collegamenti tra queste due realtà di cui vi ho parlato un po' penso li abbiate già notati questi buddhisti sia le monache d'Echefos e i praticanti vi passano moderni contemporanei che i monaci come Miaugin della prima metà del ventesimo secolo che mettevano in pratica le antiche pratiche sono buddhisti cinesi che adottano le pratiche Hinayano o Theravada secondo che le chiamino senza sentire alcun bisogno di mettere in discussione la loro identità di praticanti Mahayana e questo a mio avviso è possibile solo se si considera questo fenomeno all'interno appunto della ricezione in Cina di dell'assimilazione in Cina di una concezione moderna del buddismo che arriva appunto durante l'epoca repubblicana da un lato abbiamo l'accettazione di altre tradizioni come elementi ugualmente validi all'interno di un unico ecumene buddista una visione appunto panasiatica moderna del buddismo che agevola l'accettazione di tutte le diverse non a caso questo è il momento in cui il buddismo tibetano comincia a diffondersi in modo evidente tra i cinesi non solo appunto queste pratiche e dall'altro appunto la riscoperta di insegnamenti buddhisti che erano a lungo caduti in omblio inclusi gli insegnamenti delle antiche pratiche e l'idea che i testi Hinayana fossero equiparabili al buddismo originale ovviamente portò anche a una rivalutazione dei presunti insegnamenti inferiori da un lato ma anche a un nuovo apprezzamento del buddismo Pali in epoca questa giuro è l'ultima slide in epoca post-maoista che cosa è accaduto abbiamo appunto una crescita davvero esponenziale a questo punto il fenomeno è davvero molto visibile negli ultimi decenni e può essere attribuita a fattori diversi sicuramente la resilienza di concezioni moderniste del buddismo cinese nel buddismo cinese di oggi appunto un certo numero di monasteri cinesi tradizionali abbracciano un approccio non settario che permette loro di incorporare elementi di tutte le principali tradizioni buddiste questa accettazione di pratiche diverse dal cian e dalla terra pura ovviamente crea un terreno fertile per lo sviluppo della meditazione teravada e d'altro lato come abbiamo visto le teorie che il teravada sia una rappresentazione più autentica del buddismo privitivo originale che si voglia incrementa in modo significativo la sua popolarità d'altro lato e questo è vero soprattutto per l'epoca contemporanea anche se già c'erano i segni durante l'epoca repubblicana va detto che c'è un fenomeno parallelo ovvero una crescita dell'interesse per la meditazione da parte dei laici e qui che cosa abbiamo? Abbiamo un aspetto un po' diverso l'accessibilità delle moderne forme di vipassana è sicuramente da considerare come uno dei motivi della loro diffusione semplicità accessibilità ed efficacia questi sono i termini che ricorrono maggiormente nelle mie interviste ai laici della pratica Mahasati insomma per dirle se vogliamo con le parole usate da Robert Scharf per definire il primo Chan in qualche modo sembra che la tecnica Mahasati sia in grado di democratizzare l'illuminazione chiudo la citazione quindi a maggior ragione se si considera assimilabili alle antiche pratiche meditative quindi equiparabili alla meditazione buddista originaria insomma in altre parole non sono solo più facili ed efficaci ma anche più autentiche e pure grazie mi scuso se ho sforato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti